Radio Radicale, siamo con Nicola Fratoianni di AVS per parlare della liberazione di Maison Meidi, che è una dissidente politica iraniana che è stata accusata e messa in carcere per un anno con l'accusa di essere una scafista. L'indagine era stata fatta dalla Guardia Costiera, dalla sezione della Guardia di Finanza. Allora c'è soddisfazione per questa liberazione, ma anche si riflette molto su come certe indagini vengono fatte in maniera abbastanza sbrigativa. Sì, c'è grande soddisfazione per lei la fine di un incubo, un anno di carcere senza alcuna colpa. La verità è che su questa vicenda, quella che più in generale riguarda il tema dei cosiddetti scafisti, spesso e volentieri le indagini o più generalmente il confine che passa tra chi si trova comunque vittima di una dimensione legata allo sfruttamento dei corpi, delle persone, del traffico di esseri umani e chi lo organizza. È un confine che andrebbe più seriamente riconosciuto e che spesso invece viene gravemente confuso dalla retorica della politica di questo Paese, di una parte importante della politica di questo Paese e talvolta evidentemente anche dai limiti del sistema di indagine che arriva sempre e solo a valle e che continua a non vedere ciò che accade a monte. Noi da anni denunciamo come i primi tra gli organizzatori del traffico di uomini, di donne, di bambini, i primi tra gli scafisti siano alcune di quelle autorità con le quali questo Paese da molti anni, quindi per la verità non cominciare dall'arrivo di questo governo, quello della destra, intrattiene più che cordiali rapporti con i quali costruisce accordi, con i quali fa affari. Primo tra tutti penso a quello che accade con la cosiddetta guardia costiera libica che da molti anni in tutta evidenza di giorno indossa le uniformi di una cosiddetta guardia costiera per poi alla calare delle tenebre riprendere i panni dei trafficanti di persone. La questione era stata trattata nel provvedimento sulle missioni adesso? Sì, anche da anni si rinnova un accordo con la guardia costiera libica che è del tutto inaccettabile e in questi anni si vanno estendendo gli accordi con Paesi che non solo sono Paesi non sicuri ma che sono Paesi nei quali il tema dell'immigrazione è spesso gestito e usato non solo come strumento di arricchimento per alcuni ma anche come leva, arma di carattere politico, geopolitico, sempre tutto però a danno delle vittime che sono i migranti, le migranti in condizioni di estrema fragilità, di enorme ricattabilità. Questo è del tutto ragionevole immaginare che avvenga anche sulle piccole imbarcazioni dove chi magari si trova al timone di quella barca si trova lì perché è stato costretto a svolgere quella funzione e si trova in quella condizione non perché sia l'organizzatore di quel viaggio ma perché diventa uno strumento è comunque una vittima ma a prescindere dal ragionamento più complessivo nel caso di Maedì mi pare chiaro che l'impianto accusatorio aveva una grande fragilità e questo primo risultato che ancora non chiude la vicenda sul piano giudiziario mi pare un risultato positivo. C'è da augurarsi adesso che non vada a finire in Albania? Sì, mi pare che sia un buon augurio. Grazie a Nicola Fratogliani Grazie a Nicola Fratogliani Grazie a Nicola Fratogliani